Antonello De Rosa venerdì 8 febbraio entra nelle carceri di Eboli per riabilitare attraverso il teatro i detenuti ospiti della casa di reclusione ICAT, che da questo mese ospiterà il laboratorio ICART Teatro Terapia. Gli ospiti dell'ICAT saranno allievi del regista Antonello De Rosa ed avranno la possibilità di interagire con altri attori di scena teatro. Il mio teatro, afferma il regista, da 30 anni è un teatro rivolto al sociale. Questo nuovo incarico mi colma di tanta gioia ed emozione. Quando me l'hanno proposto ho accettato subito.